Torre Angela, sto a Torre Angela, via di Torre Angela, via di Torre Angela, via di Torre Angela per tutti Via di Torre Angela, direzione raccordo Torre Angela, via di Torre Angela, via di Torre Angela Torre Angela, sta girando, sta girando per il raccorto Torre Angela, via di Torre Angela, via di Torre Angela, via di Torre Angela Sì, mi riprendi l'avancione, ho deciso proprio la banca. Le prime due, Alfa Bravo 286, non so adesso dove è uscito, non so dove è uscito. Ancora, la festa è stata. La festa è stata. Allora, vada la姿 e la polvere con la sua parte. C'è un paese che mi ha impiantato la mia fagna, non so che la mia fagna, non so che la mia fagna. Questo sapeva aiutato. Le prime due, la mia fagna è stata, va bene.